L'interrogazione presentata dal deputato del PD Luciano D'Alfonso che chiede al governo come intende intervenire per contrastare il blocco della cessione dei crediti ed ilizi generati dal super bonus. Supera e anche di molto l'on pass della legge che vede nelle regioni una possibile soluzione con l'acquisto dei crediti e la compensazione dei debiti, complicata in Abruzzo da una bagarre politica sul chi ha avuto per prima l'idea. Ma è un'iniziativa bonsai che ha il valore di una preghiera, di un fioretto di San Nunzio sul Pizio che è il santo degli operai e di coloro i quali si applicano, ma non ha nessuna capacità di soluzione. Le regioni devono stimolare il sistema centrale del governo, la competenza è del governo, non a caso adesso la ragioneria generale dello Stato sta emanando una norma di primo grado che genera l'impedimento a enti locali e regioni di intervenire. Nel 2022, secondo una ricerca del Cresme, gli investimenti asseverati in super bonus hanno rappresentato il 2,5% del PIL e hanno generato il 22% della crescita dell'economia italiana. Altro dato, lo studio del Censys, che avrebbe certificato come i 55 miliardi di euro investiti dallo Stato per il super bonus abbiano attivato un valore della produzione totale pari ad almeno 115 miliardi di euro. D'Alfonso ha ricordato che con l'annuncio di poste italiane che dal 7 novembre 2022 ha sospeso l'acquisizione dei crediti derivanti da bonus edilizi, il già noto problema del blocco dell'accessione si è acuito sempre di più. La soluzione quale potrebbe essere detta in due parole? Cassa, depositi e prestiti, ente poste, sistema bancario che vengono aiutati con una norma chiara a rimettere in circuito i crediti fiscali affinché facciano il loro cammino, rendendo soddisfatta l'esigenza di Bruxelles che i crediti fiscali non producono una duale moneta competitiva con la moneta del conio rubricato. Non è una nuova moneta quella del credito fiscale, ma è semplicemente la capacità di un sistema di trasferire la raccolta fiscale dall'IRPEF all'IVA, all'IVA che è la fiscalità delle cose. Su questo fronte è sufficiente che il sistema paese, attraverso l'attività normativa primaria, rileggiferi facendo in modo che la responsabilità non cada in capo al sistema bancario e finanziario per evitare le truffe. Quella delle regioni, come si può dire, non ha la grandezza per affrontare il problema. rischierebbe soltanto di essere una bandierina.